Sesta corsa premio Fior del Ronco, seconda Tris, doppio chilometro per gli anziani delle categorie dalla C alla F, 5 allo start, 5 a 20 metri dopo il ritiro di Rino Jet. Subito valido il primo segnale che vede andare al comando con decisione Talent B nei confronti di Tecco Welcome, poi dalla seconda fila veloce Tiger Jet che precede Todo Bien e Perkins Griff. Tra i penalizzati il più sollecito è Top Gun America che precede New Hope, Palomarelle B all'esterno, in coda invece Ulisse SM e Rama IOM. Talent B che comanda nei confronti di Tecco Welcome, poi Tiger Jet, ancora Todo Bien, Perkins Griff, Top Gun America che ha rifatto rapidamente la penalità. Dalle retrovie prova a progredire Rama IOM che aggira Palomarelle B e giunge al lato di Top Gun America. Todo Bien e Perkins Griff sono pronti all'anticipo e si spostano in seconda ruota trascinandosi Top Gun America e Palomarelle B mentre Rama IOM è costretta ad una onerosa terza ruota. Todo Bien che risale per gradi e ora al lato di Tecco Welcome, il mezzo miglio iniziale, va via in 1, 2, 3. Rama IOM che insiste in terza ruota cercando di aggirare Todo Bien che però la contiene ancora. Insiste Rama IOM, cerca di andare a diretto contatto di Talent B quando siamo ormai superata la metà gara. Rama IOM che riesce a scavalcare Todo Bien e giunge dal lato di Tecco Welcome per andare in caccia di Talent B che comanda dalla partenza quando siamo al paletto degli 800 finali. Si giunge in 1, 32 scarso, ora c'è lo scatto in quarta ruota da parte di Top Gun America al quale prova ad opporsi Todo Bien. Palomarelle B che cerca di seguire Top Gun America avendo all'interno Perkins Griff. Il gruppo è molto compatto con Talent B che reagisce all'attacco di Top Gun America. Rama IOM che potrebbe scendere forse davanti a Tecco Welcome ma quest'ultimo la si riprende e ora però sbaglia Tecco Welcome forse sacrificato. All'esterno di Rama IOM c'è Todo Bien che ha in Perkins Griff. Talent B in vantaggio su Top Gun America. Più indietro Rama IOM e Todo Bien. Perkins Griff che sbaglia. Talent B che accelera e si stacca da Top Gun America. Poi Todo Bien che all'interno Rama IOM ora ha lo spazio anche Tiger Jet. Sempre in largo vantaggio Talent B che conclude da dominatore da un capo all'altro con Antonio Di Nardo nei confronti di Top Gun America mentre c'è Bagar per le altre piazze. Aspettiamo di rivedere percorso di testa da 2.29.2. Si sapeva che non sarebbe stato facile andare a prendere i cavalli dello start soprattutto Talent B che è affilato al comando e si è espresso a media di 1.14.5 sul doppio chilometro con partenza fra i nastri il figlio di Cantaboll presentato da Giacomo Perfetto con insalchi Antonio Di Nardo al doppio in giornata. Rivediamo il suo arrivo solitario nei confronti di Top Gun America risalito bene. Poi Teco Velcam ovviamente squalificato perché è di galoppo e per il terzo Rama IOM all'interno dopo corsa molto dispendosa rientra a Todo Bien però c'è da attendere se un eventuale intervento della giuria per un possibile problema sull'ultima curva proprio tra Teco Velcam e Rama IOM.